Bentornati a Consumi e Consumi, l'abbiamo scritto nei titoli, la Cina è vicina, guarda all'Italia, a Milano, a Expo 2015. Una collaborazione avviata nel settembre 2011 con la conferma della partecipazione di questo grande paese all'esposizione universale. Ma ora, dopo la carta di intenti, arrivano i primi progetti concreti, progetti che rafforzano non soltanto le relazioni tra l'Italia e la Cina, ma potranno avere importanti ricadute economiche per entrambi i paesi. Ma c'è di più, perché l'esposizione universale di Milano sta davvero ridisegnando la geografia del mondo. Sembra esagerato? Chi può dirlo? Ne parliamo con Giuseppe Sala, amministratore delegato di Expo 2015, che è tornato a trovarci. Buongiorno Sala. Buongiorno. Senta, davvero, lei è appena tornato da Pechino, ma non è stata l'unica tappa che ha fatto nel suo viaggio. Allora, com'è andata? Ci racconti tutto. Sono stato a Riyadh e a Pechino. In particolare, la missione di lavoro è stata concentrata sulla Cina, perché per noi la Cina è un paese importantissimo. Senta, entusiasmo in Cina? Ma direi di sì. Adesso noi sulla Cina la stiamo lavorando anche perché il primo obiettivo che ci poniamo è di avere un milione di visitatori cinesi all'Expo di Milano. Se si pensa che attualmente sono 300.000 i cinesi che vengono in Italia, può sembrare una follia, però dobbiamo anche considerare che nel 2015, secondo quanto dicono i cinesi, 100 milioni di cinesi andranno all'estero per il turismo e i cinesi su queste cose non sbagliano, hanno dimostrato in questi anni di fare quello che promettono e quindi direi che è legittimo per noi pensare di avere tutti questi turisti cinesi. E questa è una buona opportunità. Ah, lo è in maniera enorme, poi lo è anche, c'è anche tutto il mondo delle aziende. Ci sono aziende cinesi che vogliono venire in Europa, abbiamo firmato un ricco contratto con una società cinese e ritengo che per le aziende italiane e in particolare nel business dell'alimentare, l'Expo e il rapporto con la Cina sia molto importante. Senta, la Cina quindi guarda l'Italia sotto il profilo dell'alimentazione che peraltro ricordiamo è il tema di Expo 2015. Ma ci sono grandi immagini di crescita. Cominciamo a dire che oggi quello che noi facciamo è totalmente insufficiente, anche perché i prodotti alimentari si poi distribuiscono e la distribuzione nel mondo è francese e questo ci penalizza. Un altro modo per farle conoscere sono i ristoranti. Ecco, faccio un esempio, ad esempio a Shanghai nel 2002 c'erano quattro ristoranti italiani, oggi tra veri e presunti ce ne sono un centinaio, ma in sostanza i cinesi guardano ai prodotti stranieri e in particolare ai prodotti bio e organici con grande interesse. Ci sono stati dei problemi sulla sicurezza alimentare, recentemente i giornali hanno parlato di uno scandalo regato dal latte in polvere cinese, quindi per noi c'è una grande opportunità. Certo, anche perché le nostre aziende insomma hanno una buona tradizione di buona industria alimentare, quindi in questo possono essere davvero competitive. Sì, 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 assolutamente sì e avranno questo palcoscenico che durerà sei mesi, 184 giorni, quindi come sto dicendo in questi giorni il treno Expo sta partendo e è ora di salirci sopra. Senta, non solo Cina, appunto lei citava anche Riad, ma avete avuto fatto insomma numerose tappe, cosa ha visto in giro per il mondo? Ma guardi, a Riad innanzitutto siamo stati perché l'Arabia Saudita storicamente è il paese che più investe negli Expo. I Sauditi, abbiamo incontrato il Ministro dell'Industria e del Commercio, ipotizzano di investire 70-80 milioni per la loro presenza e quindi una cifra importante, ma anche con una voglia di manifestare quello che loro sono a Milano. Ma io la cosa di cui sono certo è che girando per il mondo il consenso che troviamo, il consenso che troviamo al nostro progetto e al fatto di venire a Milano in Italia è veramente straordinario. Beh insomma, quindi è stata una bella sfida aver giocato per vincere, esserci riusciti con tutta la fatica che questo ha comportato, però è come lei diceva il treno è partito. Senta, mi tolgo una curiosità, come funziona la scelta del padiglione, la collocazione? Cioè i paesi possono, poi abbiamo delle sorprese per le prossime puntate, non ve le anticipiamo, però appunto i paesi possono scegliere come farlo, dove farlo, quanto farlo grande, cioè come funziona? Un po' complesso, ma di fatto se proviamo a semplificare, innanzitutto la dimensione dipende anche dalla capacità di investimento e dalla voglia di investire ai paesi. Quindi classicamente ci sono dei paesi come la Germania, l'Arabia Sudita, gli Stati Uniti che hanno padiglioni grandi, ma ci sono paesi emergenti, il Vietnam ad esempio, che chiede un padiglione grande. Quindi di fatto noi vediamo che la geografia sta cambiando e non è più una geografia fisica, ma si muove a seconda anche un po' di altri criteri. Quello che noi chiediamo è una forte attinenza al tema, quindi di fatto i paesi devono dichiarare quello che faranno, devono spiegare il loro progetto. Normalmente poi i paesi lanciano a casa loro un concorso di idee e ne escono con una proposta che dal punto di vista architettonico e dei contenuti va incontro a quello che noi chiediamo. È la parte più entusiasmante per i paesi perché è il modo con cui i paesi si presentano al mondo volendo dire la loro sulla loro tradizione, sulla loro cultura, sulla loro visione del futuro legato a un tema che è il tema dell'alimentazione. Ecco, senta, in questo i paesi investono anche sul loro territorio, cioè lavorano e preparano le loro popolazioni e i loro cittadini all'evento, è così? È così, ad esempio, questo è il tema della visita ai cinesi, è un lavoro che stiamo facendo anche supportato dalla Camera del Commercio, supportato da enti locali, con le agenzie turistiche cinesi, tra parentesi abbiamo avuto questo incontro con i grandi tour operator cinesi e devo dire che mi sono trovato dall'altra parte del tavolo persone molto giovani, sui 30 anni, molto preparate, chapeau, il mondo cambia. Ma ad esempio gli svizzeri ipotizzano 2 milioni di svizzeri all'Expo, quindi no, è poi interesse dei paesi che fanno questi investimenti, che vengono in Italia, far sì che anche i loro cittadini vengano a vedere cosa hanno fatto. Senta, lei prima accennava alla geografia, in realtà anche io ho lanciato un po' questo tema, perché è vero, guardando a come anche noi impariamo a capire, a conoscere cosa sarà Expo, non c'è più, oppure forse c'era prima o non ci sarà più questa idea del collocare il padiglione esclusivamente per paese e quindi in questo un po' la geografia la state cambiando. Sì, è esattamente così, innanzitutto sulla posizione del paese c'è un dialogo con noi e non è proprio un tema contattuale, ma in sostanza i paesi cercano di essere vicini ad altri paesi, ad esempio c'è molta ricerca ad essere vicino al padiglione italiano, c'è molta ricerca ad essere vicino al padiglione cinese, al di là appunto della geografia. E poi noi abbiamo fatto questa invenzione italiana di gusto che vista poi dopo, sembra banale, ma è che in realtà ha colpito molto e cioè i paesi spesso erano raggruppati, sempre erano raggruppati per geografia, noi li raggruppiamo per cluster tematici, cioè tutti quelli che rientrano nella filiera del caffè stanno vicini, tutti quelli che rientrano nella filiera del cacao stanno vicini. Così è molto più interessante anche per i visitatori, cioè uno entra lì e è un'immersione nel mondo del caffè e questo sistema piace molto, oltretutto si evita un po' quel senso di ghettizzazione, tutti gli africani assieme, mentre lavorando sulla filiera del cacao, ecco, noi favoriamo l'economia di questi paesi. Certo, questo vuol dire anche mettere a confronto e anche in una sana competizione poi come i paesi con le loro produzioni, fa un po' capire che il mondo è globalizzato, cioè non c'è più appunto la Cina, l'Africa, è così? È così e non è solamente il problema del mondo istituzionale, ma anche le aziende, ma anche i settori di business funzionano in questo modo, quindi pensate al caffè, ci sono credo 12 paesi al mondo per cui il caffè è il primo prodotto di export e ci sono colossi e ci sono importantissime aziende italiane che lavorano in quel settore e c'è una tradizione italiana, quindi è un racconto diverso della società che cambia, dell'economia e infine della geografia, ma come se la geografia venisse dopo? Insomma, non come ce l'hanno insegnato a scuola, questa è Europa al centro, il resto del mondo che girava intorno, ormai è cambiato tutto. Guardate, pensiamo sempre alla Cina, insomma la Cina alla fine ha il 25% della popolazione e nella mentalità cinese ci sono due giganti che sono la Cina e gli Stati Uniti e c'è l'Europa che deve definire un suo ruolo. Ecco, io penso che questo evento fatto in Italia aiuterà l'Italia e un pochino anche l'Europa a mettersi al centro lavorando sulle nostre qualità che sono la qualità dell'accoglienza, che sono le qualità del saper vivere, che sono la qualità dell'alimentazione, quindi sono i nostri valori. Senta, Expo 2015 ha un supervisore che è il BIE, Bureau International des Expositions, giusto? Giusto, perfetto. Quasi, perfetto. Quali sono i rapporti con il BIE? Avete, abbiamo superato gli esami? I rapporti sono molto buoni, il BIE è governato con mano ferma da un signore spagnolo molto simpatico che fa questo lavoro a 18 anni, quindi la sa lunga per così dire. Sì, gli esami li abbiamo superati, lo si legge dai verbali dell'assemblea, dai comitati, ma lo si legge dall'attività di tutti i giorni, ma poi anche lì io penso che quando gli italiani riescono a fare le cose con serietà, con quel garbo, parlando le lingue, eccetera, eccetera, alla fine ci mettono quel quid di simpatia che non guasta. Questo, signor Lossertales, è veramente un nostro supporter, sarà a Milano il 4 e il 5 di febbraio per lavorare con noi, ma è un patrimonio valoriale dal punto di vista della relazione, anche Italia e mondo. Certo, sento, un'ultima domanda. Prossimo appuntamento? Ma adesso abbiamo l'appuntamento, è un appuntimento quotidiano di crescita dei lavori, che è il nostro tema centrale. Oggi chi va nell'area vede all'opera più o meno 200 persone, ma che diverteranno 5-600 a maggio. Ecco, il prossimo appuntamento, lunedì, il Ministro Cancellieri verrà a vedere i lavori con due obiettivi. Il primo, anche la sua curiosità, è vedere come si stanno muovendo le cose. La seconda, siamo molto, molto attenti al rischio di infiltrazioni mafiosa, adesso senza enfatizzare ed estremizzare, ma la cosa richiede una grande attenzione e quindi stiamo lavorando con il Ministero, con la Prefettura e il Ministro viene anche un po' a verificare che tutto funzioni da questo punto di vista. Insomma, questo tema è importante, è importante per l'Expo, ma è importante per le imprese, è importante per il Paese, quindi insomma voi su questo state lavorando bene? No, stiamo lavorando, come sempre ci sono stati e ci saranno nel percorso problemi, ma abbiamo dimostrato di saperli affrontare con tempestività, con decisione, senza troppi compromessi e quindi obiettivamente fare delle opere in Italia facile non è, ma noi dobbiamo farli e dobbiamo arrivare al primo maggio del 2015 con tutto pronto. Bene, allora grazie a Giuseppe Sala, amministratore delegato di Expo per essere stato con noi.